Una decisione necessaria, oculata, che abbiamo dovuto studiare nei minimi particolari perché è stato un momento difficile da parte dell'azienda, ma siamo stati costretti a doverlo fare, quello di chiudere, di revocare il contratto di concessione del bar con la ditta PAP, visto la situazione che si stava delineando e che si sta delineando, dove non vengono pagati i canoni di concessione, dove non vengono pagati i dipendenti e questa è la cosa che più ci sta a cuore, perché è ovvio che uno quando lavora deve essere pagato e questo dimostra appunto che la mancanza forse di solidità della ditta e a questo punto l'unica strada era quella di chiudere questo contratto, visto tra l'altro che c'è una nuova gara e a breve andremo ad assegnare la gestione del bar, speriamo questa volta a una ditta che ne abbia le capacità di poterlo fare, perché noi con la PAP siamo stati benevoli in tutto, benevoli nel dare delle dilazioni di pagamento, benevoli nell'accogliere le richieste per far sì che continuasse il loro servizio, non è valso a nulla, allora è giunto il momento di dire basta e di voltare pagina. Penso sia un minimo di tempo, 15-20 giorni, perché le offerte sono arrivate, adesso va fatta la disamina delle offerte, dopo di che si va all'aggiudicazione e alla riapertura. Vedere un bar dell'ospedale chiuso con danno sia ai pazienti che vedono il bar come un momento di ristoro, pure per quelli che sono ricoverati, sia per gli ospiti che vanno a trovare i pazienti e soprattutto per vedere che il personale non viene remunerato per l'attività che svolge, ha fatto sì che si assumesse una decisione forte in un momento così delicato, però è stata una scelta da cui non potevamo esimerci.